Benvenuti esploratori e viaggiatori omniplanetari. Vi servirà un cervello grande quanto quello di materia grigia per comprendere il ruolo delle banche del DNA del suo pianeta, Galvan Prime. Una volta erano considerati degli animaletti, ma non appena i Galvan scoprirono la superintelligenza dell'Omega Point del pianeta, la storia cambiò. Diventarono ingegneri, ricercatori e tecnici sopraffini e ora niente può spegnere la loro sete di conoscenza e la loro dedizione nel catalogare DNA interstellari. I Galvan hanno costruito un'armata di droni senzienti capaci di scandagliare lo spazio alla ricerca di civiltà aliene, anomalie scientifiche e stranezze che soltanto una mente sviluppata come la loro può comprendere a pieno. La valanga di informazioni sul DNA che collezionano da ogni specie aliena del cosmo viene caricata nel computer centrale di Galvan Prime. Ed è così che Galvan Prime è diventato il più grande centro di ricerche sul DNA dell'universo. Oh, il mio cervello non regge più queste spiegazioni scientifiche. Partiamo! 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 Partiamo!